Addensanti in pasticceria gluten free Sono Andrea Di Giglio, chef pasticcere, specializzato in cucina e pasticceria salutistica di qualità. Bene, oggi ti volevo parlare degli addensanti che si possono utilizzare per prodotti senza glutine. Un problema che ho riscontrato in prima persona quando sperimentavo all'epoca le ricette senza glutine e che si rompevano, si sbriciolavano. Si faceva una pasta frolla ma poi quando andava a lavorarla si rompeva andava a fare un biscotto e si sbriciolava troppo. E tutti questi problemi che ho voluto risolvere piano piano andando a costruire delle ricette, degli ingredienti da andare a inserire nella ricettazione proprio per andare a mimare l'effetto del glutine e ottenere un prodotto plastico. Sicuramente ad esempio nella pasticceria salutistica per le paste frolle, per mimare l'effetto plastico abbiamo tre ingredienti principali che sono la gomma di guar, ad esempio se andiamo a fare una pasta frolla, se vogliamo utilizzare la gomma di guar, tendenzialmente un 2% della gomma di guar su un chilo di pasta frolla è più che sufficiente per avere un effetto plastico. Possiamo aumentare fino al 5% per avere veramente una grande plasticità e una facile realizzazione dei prodotti che vogliamo fare. Ad esempio un altro ingrediente che possiamo utilizzare è la xantana, gomma xantana. All'epoca come chef la utilizzavo per riuscire a rendere più stabile delle vellutate, delle creme a freddo, creme di mozzarella, eccetera. Ho notato che in pasticceria è molto utile anche nelle paste frolle e se vogliamo creare della biscotteria un po' più stabile. Sicuramente la gomma xantana anche qui da un 2% a un 5% sul peso totale riesce a contrastare molto lo sbriciolamento della frolla e ottenere un prodotto più stabile. Il top secondo me che si può utilizzare è la metilcellulosa. È un altro ingrediente che se usato sempre da un 2% a un 5% è il più forte che perlomeno io conosco che permette di avere una buona plasticità del prodotto e quindi lavorarlo mimmando l'effetto del glutine in maniera formidabile. Sono riuscito a fare piadine con farina di riso, sono riuscito a fare tantissimi prodotti con la metilcellulosa. È veramente un prodotto sorprendente. Il problema è il prezzo perché costa molto ma se ne usa poca comunque. Quindi questo qui era un attimo il video che ti volevo fare per riassumere quali tre ingredienti potresti utilizzare nella tua pasticceria o anche cucina senza glutine per mimare l'effetto del glutine per avere una buona plasticità negli impasti quindi riuscire a lavorare meglio i tuoi prodotti. Se ti è piaciuto questo video metti un mi piace, iscriviti al canale YouTube, alla mia pagina Facebook seguimi su Instagram e ci vediamo al prossimo video.